Hai del burro? Non ce l'ho ma ho un po' di formaggio. Voi e Maria avete delle fave? No, non ce le abbiamo ma abbiamo un po' di patate. Maria e Paolo hanno del vino? Non ce l'hanno però hanno la birra. Hai del miele? Non ce l'ho ma ho un poco di marmellata. Voi e Paolo avete del pane? Non ce l'abbiamo però abbiamo qualche biscotto. Paolo e Maria hanno dell'uva? No, non ce l'hanno però hanno un po' di banane. Hai della carne tritata? Non ce l'ho ma ho delle bistecche. I bambini hanno del burro? No, non ce l'hanno però hanno un po' di uova. Hai dell'insalata? Non ce l'ho ma ho un po' di cavoli. Tu e Maria avete delle fave? Non ce l'abbiamo però abbiamo un po' di piselli.